Questa puntata segue quella precedente nella quale ho cantato un brano di Francesco Rabbani intitolato Occidentalis Carum, che è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2016. Ora vorrei cantare un altro brano del Festival di Sanremo, canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2009. Musica adesso, senza sigla perché la sigla la mettiamo dopo. Musica! Aprire gli occhi e ritrovarti qui è come aprire una finestra al sole e l'emozione del salto nel vuoto che mi porta da te. Aprire gli occhi e ritrovarti qui è risvegliarsi mani nelle mani. E un bacio ad acqua salata che ha ancora più sete di te mi sta. Quando tutto sembrava ormai spento nel mio mondo cercavo te. Quando tutto sembrava finito guardando il fondo invece ho sentito che tu sarai la forza mia. La mia strada, il mio domani, il mio sole, la pioggia, il fuoco e l'acqua dove io mi tuffero. Tu sarai la forza mia, il mio gancio in mezzo al cielo, il copo al cuore. All'improvviso dentro me, dentro me. Aprire gli occhi e ritrovarci qui, lasciarci andare sotto il tempo ogale. Sentire come mi manca il respiro se i tuoi occhi accendono i miei. Quando tutto sembrava ormai spento nel mio mondo, volevo te. Quando tutto sembrava finito toccando il fondo invece ho sentito che tu sarai la forza mia. La mia strada, il mio domani, il mio sole, la pioggia, il fuoco e la goccia dove io mi tuffero. Tu sarai la forza mia, il mio gancio in mezzo al cielo, il copo al cuore. Il paradiso dentro me, il mio gancio in mezzo al cielo, il copo al cuore. Il paradiso dentro me, dentro me. Tu sarai la forza mia, tu sarai la forza mia. Tu sarai la forza mia, tu sarai la forza mia. Dentro me. Dentro me. Prima della sigla vorrei dire questo, che il Festival di Sanremo del 2009 lo condusse Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. Un saluto a Bonolis e a Laurenti. Ora conduttori di Avanti un altro, la trasmissione preserale su Canale 5. Nel 2009, proprio in quell'anno, ad agosto, ho fatto 21 giorni di bordelli. Perché mi volevo andare lì a San Gineto, in modo che mi sarei divertito con i miei carissimi amici. Ma invece sono dovuto andare da quegli animali e mi sono annoiato. Bene, sigla di... Sì, un attimo solo e consiglio i piedi acquisti. Amici e amiche, non resta altro che salutarti e dandovi appuntamento alla prossima. Ora, nel concludere questa puntata, vorrei fare come Fabio Di Polito nella trasmissione a lupo al lupo, la trasmissione del Cosenza Calcio, dicendo felicissimo pomeriggio e buon finale del Festival di Sanremo a tutti quanti voi. Vi ricordo che stasera è la serata conclusiva del settantesimo Festival della Canzone Italiana. Un bacio dal vostro Mauro.